Fun Week per ben tre settimane Caterina Balivo e tutta la sua squadra non andranno in onda per lasciare spazio al Giro d'Italia. Al suo posto, Rai 2 trasmetterà infatti la diretta della gara di ciclismo. Non è la prima volta che viene mandato in pausa il programma Detto Fatto, ma sul web gli utenti fanno sentire la loro voce. Ecco tutte le voci della protesta Caterina Balivo Lascia Detto Fatto la decisione spiazza tutti. Ecco chi la sostituisce. Caterina Balivo